Ciao a tutti E' tutto questo secondo e ultimo video di oggi Bene Nel primo video ti ho mostrato Le sequenze che puoi utilizzare Proprio puoi lavorare, costruire E giocarle su altre tonalità Ora ti mostro tre t Le emozioni Come ti ho parlato nel video di ieri Le emozioni di Iovico Ha un'emozione serena Tranquilla Quindi Nel video precedente ti ho mostrato Qui ti mostro solo le emozioni Dei modi Quindi fa Senti com'è Allega Rilassata Mentre il dorico No Parliamo di emozioni Allega Questo è l'uno Il secondo è il mixo Mixo-lidio Mixo-lidio invece Mixo-lidio è Per dire Tutti com'è diverso E' più giocoso E' più giocoso Rispetto al primo E' più sereno Si senti qui Si senti qui Mette queste qui E' più giocoso Più divertente Questi sono i due modi Maggiore Poi c'è il terzo modo maggiore Che è l'idio L'idio invece è più Sognante Spaziale Più da film Da Fantascienza Infatti Che è il primo grado Il secondo grado Maggiore Quindi com'è Sospeso Magico Rispetto a Al ionico O al mixo-lidio O al ionico Mixo-lidio è Il lidio è Più sospeso E questi sono I tre modi Maggiore Poi Modi minore Dorico Dorico è quasi Magico Ha un'emozione magica Adesso Poi Poi Me Poi Per Musica prendiamo un sostitio somatico freddo è agressivo direi così rabbioso così rabbioso il friggio e poi c'è l'ultimo che è l'eolico l'eolico invece è dolce è triste ma l'inconico è dolce grazie a tutti l'inconico è dolce per fare un esempio per combinare per dire l'eolico e l'eolico con lo ionico non c'è la lega bisogna entrare stabile per passare senti la differenza non c'è la lega è un atto melancolico twister per concludere un atto semplice potrebbe essere usare il dorico che è magico che è magico punto magico da film quindi come è magico il suono e mischiarlo con un lidio che invece è sospeso quasi spaziale tipo torico magico quindi da film di fiare e poi e poi mischiare i modi come vuoi questa è la sequenza ci siamo passi al regno ci siamo passi al regno